L'anno scorso l'anno scorso Sanremo per il Giante Alpes, senza Degenkolp cambia molto. Come ti senti? Mi sento pronto, sono molto motivato. L'anno scorso, i ultimi giorni in Piranesi mi sento in forma davvero buona forma. Ho avuto migliore giorno per giorno e spero che questo progetto continui questa settimana. Ho spero di avere un buon giorno. Ovviamente non abbiamo un grande rinforzamento come le altre squadre per vincere la rinforzamento, ma credo che abbiamo una forte squadra che può posizionare me bene per la Cipresa e Poggio. E poi vediamo cosa succede. Dobbiamo prendere le opportunità e vedere la situazione della rinforzamento. E spero di avere un po' di fortuna. La prossima rinforzamento è per te? Sì, dopo Sanremo ho due settimane di training. E poi vengo a Pevasco in Spanio per questa rinforzamento. E poi faccio i Ardennes Classics, Amstel Gold Race, Flesch e Di Esch. E una grande tour per te? C'è stato l'era piccosa che ti sono stati. Un po' di nuovo consultanti ho fatto scoperto questaThis year dopo che ho fatto due anni in un'altra. Questo anno ho deciso di prendere un pochino, perché mio obiettivo è fare le Olimpiore questazione e come preparazione fare la Tour di France. Grazie.